...viaggiatori che la sezione Siracusa del treno Tersin 7, 2, 8 per Roma Termini nelle ore 12.10 sarà garantita la vita a San Giovanni. La sezione Palermo in composizione al treno arriverà dalla Sicilia con 90 minuti di ritardo. Causa ritardata a partenza da Palermo Centrale. Ci scusiamo per il disagio.